E' quello del problema con quello di sopra? E' quello che c'è andato? Forse, per chi è un netto? Allora, lo vediamo qui. ... ... ... ... ... ... ... come se non si fa qualche video o non è raga? eh oh! stavo a dire stavo va bene oh sono i ragazzi stiamo raga eh! stiamo facendo un nuovo video ma potete dare una notizia eh? la notizia non potete dare una notizia diciamo che c'è un po' oh in buona vai in linea vai in linea leggiamo sta palla non li ha più a parte buona parte buona parte